C'è una proposta che fa discutere un fondo di garanzia nazionale con cui gli enti locali del nord potrebbero investire sotto la regia dello Stato le risorse congelate a causa del patto di stabilità. Il nostro Paolo Chiariello ne parla insieme a Stefano Caldoro, Presidente della Regione Campania. Paolo. Sì, la proposta è del Sindaco di Torino, Fassino, cioè esporare il patto di stabilità e consentire dunque agli enti locali del nord che hanno liquidità in cassa di spenderli in servizi sul territorio. Mentre a sud, come ben sappiamo, soldi in cassa non ce ne sono e non si riesce ad arrivare al tetto del patto di stabilità. Lei fa una proposta diversa rispetto a Fassino, Presidente? Ma intanto Fassino pone un problema che condividiamo tutti, giusto, che è quello di spendere per pagare le imprese che non hanno le risorse, i ritardi di pagamento, quindi il sociale, i preanti di potere sociale. Però c'è un tema che la soluzione è una soluzione sbagliata da parte di Fassino, iniqua, sbagliata perché si deve violare la legge. Quindi a quel punto tu devi violare la legge per fare quello che, appunto, spender di più, spender quello che non puoi. E iniqua perché ci sono grandi differenze territoriali, quindi abbiamo ritardi di pagamento in alcune realtà di 120-150 giorni, anche lunghe. E noi, come sappiamo, in altre realtà, in particolare del sud, abbiamo ritardi di pagamento che in qualche caso arrivano oltre i 600 giorni. Il sistema Paese è un sistema che deve avere un suo equilibrio e le risposte, visto che sono debiti dello Stato e sono contratti con cittadini, quando parliamo di imprese non pagate parliamo che l'effetto è i licenziamenti, quindi la perdita dei posti di lavoro. Quindi da questo punto di vista dobbiamo rispondere con una risposta non localistica, non legata solo all'interesse di pochi, o un po' egoistica, ma nell'interesse complessivo del Paese. Presidente, una impresa che qui lavora con la Regione Campania, con un ente al locale in Campania, quanti giorni ci mette per incassare i soldi? Noi abbiamo anche ritardi di pagamento per quella che dicevo prima, carenza di liquidità, in qualche caso ben oltre un anno. Però voglio anche aggiungere che noi come Regione Campania, avendo ereditato una situazione ben nota di sforamento del patto di stabilità, abbiamo avuto sanzioni durissime. Quindi quando si è violata la legge si è pagato. E quindi noi stiamo pagando, mettendo a sistema i conti, abbiamo fatto un grandissimo lavoro virtuoso in termini di contenimento dei costi, quindi di buona politica. E quindi abbiamo le carte in regola per poter chiedere al sistema Paese, nel momento in cui abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare, chiedendo anche ai nostri cittadini l'aumento delle tasse, l'aumento degli addizionari. Però una volta che sono stati fatti questi sacrifici, ora la risposta non può essere una risposta localistica o di egoismo di parte, ma deve essere una risposta all'interesse competitivo del Paese, perché quando parliamo di Paese intero e parliamo di perdite di posti di lavoro, per situazioni drammatiche come quella che è avvenuto anche nei giorni scorsi, ecco la risposta non può che essere una risposta di equità. E noi quello che chiediamo è solo una risposta giusta a questo grande problema. Cioè per farci capire, i soldi che sono in cassa del Veneto, in Lombardia, in Piemonte, li trasferiamo in Campania oppure in Calabria, in modo tale che la Campania e la Calabria possono pagare le imprese o possono mettere questi soldi per servizi? Beh, non chiediamo tanto, chiediamo che ci sia il Governo a livello centrale a definire quali sono le priorità, quindi non si danno i soldi a uno o all'altro. Si utilizza quello che, permettete di dire, è stato fatto con il FAS e si è stato fatto con i fondi per il mezzogiorno, per intenderci, che sono stati usati per un momento di crisi per l'intero Paese. Quando c'è stata la crisi sono usati quei fondi, che erano l'unica disponibilità che aveva lo Stato, per pagare cassa integrazione in deroga, le politiche passive del lavoro, che sono andati prevalentemente al nord, dove c'erano più di queste esigenze, erano più esigenze di questo tipo. Quindi, intanto, non chiediamo di avere il ritorno a queste risorse che non ci sono, ma un fondo di garanzia, cioè in maniera tale che nessuno toglie nulla a nessun altro, ma si utilizza, è solo un problema di utilizzo, delle risorse, della liquidità che c'è, ai fini di un equilibrio nazionale del Paese. Perché molte volte sono anche le stesse imprese che lavorano al nord e hanno i pagamenti a 120-150 giorni e le stesse imprese che qui hanno 600 giorni di ritardo, in alcuni casi. L'effetto qual è? Che finiscono per chiudere i cantieri dove hanno maggiore sofferenza, creando maggiori problemi in termini di equilibrio del Paese e generando, soprattutto dove c'è più bisogno di occupazione, una crisi occupazionale molto violenta. È una proposta che ha incontrato i favori di un sottosegretario, il governo Monti? Beh, intanto va studiata tecnicamente, il tema è equità, equilibrio. In un momento di crisi, come ha detto anche il Presidente del Consiglio, il Paese deve affrontare questa crisi insieme e quindi non ci possono essere risposte parziali o localistiche o addirittura controlegge. Ma vanno fatte nel piano dell'equilibrio nazionale e quello che noi chiediamo è una cosa possibile, che ci sia appunto risorse che nessuno può oggi utilizzare. Ed è veramente un delitto che rimangano ferme e non utilizzabili. Quindi dobbiamo farle spendere e farle spendere bene in un equilibrio nazionale. Quindi nessuno pensa di togliere una regione del nord per darla a una regione del sud. I problemi sono su tutto il territorio. Guardiamo quali sono le grandi emergenze e affrontiamo dal punto di vista nazionale questa crisi.